Hai mai pensato di lanciare la tua idea nello sport senza avere il coraggio di provarci? Ti è mai capitato di immaginare una soluzione innovativa in ambito sportivo ma che poi è messo da parte? Beh, è assolutamente normale. Succede a tante persone che amano profondamente questo ambito e il mondo dello sport e che vogliono lasciare il segno, vogliono creare qualcosa di concreto. Spesso il motivo di questo abbandono, di non vorrei portare avanti un'idea, è dovuto alla incertezza sulla reale efficacia della soluzione, la scarsa conoscenza del settore, la mancanza di un metodo, di strumenti, di modelli per trasformare la nostra idea in qualcosa di più concreto, un'iniziativa vincente e magari anche un'impresa di successo. E la conseguenza di tutto ciò è che si è portati a mollare e a chiudere la nostra idea nel cassetto. Wellab ha pensato proprio a te, che hai un'idea, magari anche qualcosa di più di un'idea, che hai coinvolto familiari, amici, conoscenti, ma non sai come trasformarla in impresa. Ebbene, riceviamo tante richieste di application da parte di imprese in fase embrionale o aspiranti imprenditori e ci siamo resi conto che esiste un gap nel mercato, manca un'offerta per rispondere a questo bisogno. E' per questo che abbiamo concepito Fare Impresa nello Sport, un corso di formazione e business training che, in un formato leggero, senza la pretesa di essere un programma di incubazione, offre quelle strategie, quei metodi, quei consigli pratici, quei trucchi del mestiere per permetterti di strutturare la tua idea e trasformarla magari in un'impresa di successo. Y-Lab, forte della sua decennale esperienza in campo sportech e del know-how acquisito nella valutazione di centinaia di start-up, è oggi il soggetto più credibile per rispondere al bisogno, alla domanda di tanti aspiranti imprenditori sportivi. All'interno del team di Y-Lab esistono infatti un mix unico di competenze complementari. Ci sono imprenditori di successo nello sport, ci sono investitori, ci sono esperti di marketing sportivo, ex atleti professionisti, ci sono donne e uomini di finanza, esperti di start-up, esperti di growth hacking e digital marketing. Un mix vincente che ci ha consentito di realizzare l'exit più importante in Italia sullo sportech con Y-Scout nel 2019. Con Fare Impresa nello Sport ci prefiggiamo due obiettivi principali. Uno, aiutare chi start-up non è a strutturarsi per diventarlo. E il secondo, spiegare le regole d'ingaggio per avere successo nello sport, che è un business speciale e globale, fatto di passione, emozioni, grandi valori, ma governato ancora da meccanismi spesso difficili da comprendere, ma che è bene conoscere per non prendersi delle porte in faccia. Partecipa a Fare Impresa nello Sport dal 7 aprile in formula digitale, due volte alla settimana dalle 18 alle 20 per un totale di 20 ore, con due momenti one-to-one con il nostro team di consulenti. E la magnifica prospettiva di presentare la tua idea al comitato di investimenti, al board di GuayLab e magari vincere anche un abbonamento gratuito ai servizi dell'incubatore per un anno. Non abbandonare il tuo sogno, apri quel cassetto, realizza la tua impresa nello sport.